Si considerate la percentuale dei casi risolti, i casi di omicidio, per esempio, al giorno d'oggi, vi renderete conto che in passato la cosa, mancando una serie di tecnologie, anche scientifiche, che oggi aiutano molto gli inquirenti, vi rendete conto di quanto fosse difficile trovare un colpevole. Tuttavia, nel periodo granducale, cioè siamo alla metà del Settecento, circa la metà del Settecento, la città venne sconvolta dall'omicidio brutale e terribile, una scena veramente pulp, nel quale rimase vittima Mariuccia, una prostituta partenopea, cioè napoletana. Quando gli inquirenti si recarono sul posto dell'omicidio, la scena che gli si presentò agli occhi era veramente terribile, perché la stanza sembrava un mattatoio. Ricostruirono così l'accaduto. La Mariuccia, appunto, aveva aperto la porta a un qualcuno che lei conosceva, e conosceva bene, perché sennò probabilmente non l'avrebbe fatto, probabilmente un cliente abituale. Poi all'interno, appunto, della stanza dove lei esercitava la professione, era successo un alterco o qualcosa del genere, con una lama affilatissima, l'omicida l'aveva colpita ripetutamente al collo e in altre parti del corpo, ma specialmente al collo. Così c'era stata una fuoriuscita di sangue impressionante. La Mariuccia aveva tentato di arrivare alla finestra per chiedere aiuto, ma non ce l'aveva mai fatta, perché l'emorragia aveva avuto il sopravvento e lei era deceduta. La cosa strana era che l'omicidio era avvenuto in pieno giorno, ma nessuno dei vicini aveva sentito assolutamente niente, non c'erano state grida o altre cose, insomma, colluttazione, rumore di mobili rotti o qualcosa del genere. Per cui gli inquirenti, quelli che facevano le indagini, appunto, brancolavano nel buio, perché sinceramente non c'era nessun indizio che aiutasse più di tanto, se non questa lama, probabilmente molto affilata, ma insomma le lame molto affilate all'epoca erano molto più diffuse di quanto non sia oggi, che li potessero aiutare. Di conseguenza, per un lungo periodo, la cosa rimase senza soluzione. Tuttavia, loro attesero pazientemente che qualcosa emergesse e come quasi sempre in queste situazioni, qualcosa emerse. In uno dei negozi di un ebreo di Firenze, fu rintracciato un sottanino, un sottanino, cioè una sottana, che era appartenuta alla prostituta, che era napoletana, che era stata uccisa. Allora, ovviamente interrogato, il commerciante disse che aveva acquistato la cosa da un certo Antonio di Vittorio Gianni, che era un barbiere alla buca del portone d'Annalena, di età 22 anni. Ovviamente i birri, cioè gli sbirri, si recarono subito dal Gianni e lo arrestarono. Il Gianni viene arrestato e viene, come ho detto, e viene immediatamente sottoposto a interrogatorio, probabilmente anche a tortura, e confessa subito l'omicidio della prostituta partenopea dovuto a gelosia, perché lui era innamorato appunto di lei e non voleva che continuasse a fare quel mestiere. La sentenza non mette molto tempo ad arrivare ed è ovviamente la morte. L'11 luglio del 1742, un lunedì, il Gianni viene portato a Porta Santa Croce e lì viene impiccato. Ma cosa succede? Tutti i barbieri, che erano comunque dei colleghi del Gianni, volevano assistere all'impiccazione del Gianni stesso, per cui chiudono bottega e sarà da quel giorno che il lunedì tutti i barbieri, in ricordo di quell'episodio, chiuderanno i battenti e i loro negozi il lunedì. Grazie a tutti.